Questo è Yellow Day Rainbow Friends, e si non lo vedete perché è super piccolo E sono io, effettivamente la visuale non è che sia più piccola ma è Guardatelo quando corre stra piccolo, così non fa così tanta paura Ma non sottovalutiamo Lui è sempre malvagio, infatti adesso ce lo dimostrerà Si sono io che lo sto comandando è vero, però io mi dovrò comportare in modo cattivo Ma nessun problema perché adesso iniziamo a scavare la pietra in modo malvagio Il piccoletto, beh non scava, lui fa esplodere, oh mio dio devo scapparmene immediatamente Ai 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 ai, lui fa esplodere le cose, non aggiardatevi mai più a dire che lui scava Non si potrebbe mai permettere di sporcarsi le mani da solo Lo fanno solamente quelli che giocano alla vanilla normale, ma noi non giochiamo alla vanilla normale No, noi facciamo ben di peggio qui Però intanto il piccone di pietra ci serve Come vedete ovviamente è sempre notte perché dopo tutto è la vanilla di Yellow Il Rainbow Friends nuovissimo del capitolo 2 Vediamo cos'altro possiamo fare Oh che carino quando nuota Volevo dire è proprio cattivo E lui quando uccide le pecore ci gode molto Veramente tanto Cara pecora non ti preoccupare sarà finita prima che tu te lo possa immaginare Scusa Raga mi sa che mi sta contagiando comunque Yellow Veramente mi sto sentendo proprio immerso nel personaggio Fin troppo forse Questo video mi sta piacendo da fare perché è veramente divertente Cioè poter distruggere tutto quanto Sono molto espressivo vero cara pecora Avete visto fin dove è saltata quella Cerchiamo qualcos'altro di distruttivo da fare su Minecraft Yellow ha visto dei maialini E accipicchia se adesso li farà fuori Avete visto comunque che provata che ho fatto Sono veramente bravissimi Però non si limiterà qui Yellow Perché distruggerà questi maiali del cavolo Ma guardate questa cosa sembra un po' ambigua Beh lui nel tempo libero si fa il bagno nella lava Indovinate un po' Quando Yellow vuole prendersi un cavallo Se il cavallo non l'accetta alla prima volta Beh potrebbero succedere cose veramente terribili a quel cavallo Toccherà fare proprio quello che tutti quanti sognano di fare Ai cavalli antipatici come te che non accettano E ragazzi quante volte avete sognato di poter fare questa cosa Ai cavalli orribili che ogni volta cercano Sì La prossima volta impari a rifiutarmi E impari a rispettare Yellow dei Rainbow Friends Beh direi che questa serie dei Rainbow Friends può continuare ovviamente Magari anche con altri amici chi lo sa Sempre ammesso che voi lo vogliate Scrivetemi nei commenti se lo volete E vi darò anche il cuoricino E noi ci vediamo al prossimo video Ciao